Ho scelto di partecipare alla challenge perché volevo fare qualcosa di diverso rispetto a quelli che erano i classici esami accademici e volevo anche mettermi in gioco cercando di capire se tutte le competenze acquisite durante il percorso di studi potessero essere messe in pratica in questa esperienza. Non solo ho imparato a lavorare in team ma ho anche migliorato la mia capacità di esposizione, infatti ho abbattuto quella che è la classica paura del palcoscenico e dovendomi approcciare periodicamente con presentazioni orali davanti a professionisti quindi a dottorandi e professori ho avuto anche la possibilità di sviluppare una mentalità critica che si ponesse come obiettivo quello di risolvere delle problematiche reali.